Molto spesso mi viene chiesto come si realizza la simulazione del pelo degli animali, ad esempio le vibrisse o i baffi dei felini. Questo tipo di effetto non ha una realizzazione univoca, ma tanti piccoli trucchi specie se le dimensioni del disegno sono molto piccole. Adesso ne vediamo una. Ti occorre un bisturi e un pezzettino di vinile adesivo. Esegui un taglio a curva. Applicalo su un cartoncino di prova divaricando leggermente la parte aperta. Adesso aerografa nella fessura. Infine rimuovi lo stencil. E adesso prova direttamente sulla belva. Che ne dici del risultato? Ciao, alla prossima e buon lavoro con l'aerografo!